marzo non partì subito non dovevo vabbè ma questa la finiamo subito e poi parte la e che va beh questa è una cazzata dai metto messo direttamente allora questa già ma potrebbe essere la russia l'ucraina sono in america questi mado questo vuoi vedere una cosa vuoi vedere sta guarda si questa la faccio vedere solo così li mandiamo al bar e poi andiamo quella dopo cioè è sante gerome ok quando sei pronto mi dice faccio play again no ho perso gianco e con me è divertente fare queste cose vogliamo provarla che io la gioco senza muovermi e tu ti muovi ci stanno salutando i pezzi di merda eh porco dio ah ma hanno messo proprio la chat no già ma no 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 don't say hi to me lol ah no no questa è questa è un argutino perché hanno messo la chat sarebbe un certo tipo di grill questo sta solamente in un post lol questa è bella cazzata era ci abbiamo già detto un po di cura siamo poco poco sopra il canada qui se non sbaglio oh io vi dicevo che comunque io che non bevo lo sento veramente tanto la l'alcol è nella nelle fiesta non che mi sento io come se avessi bevuto però il sapore l'odore questa potrebbe essere un'isola marzo tu dimmi dimmi quello che devo osservare eh io ho guardato le targhe di quest'isola ma non ce so le targhe marzo ho una macchina stiamo sperando una macchina e c'ha la e c'ha la targhe qui c'è un h potrebbe essere tranquillamente h di qui ah ma questi scusa perdonami ma che cazzo ha contro chi stiamo a giocare marzo eh ne sanno eh questo che è questo mi sembra firenze potrebbe essere messico città del capo allora mi muovo oh contate paralisata è spagnolo eh contate paralisata ma che è questo ma questa è islanda dai irlanda oddio non credo io vado questo è gran canarie no no vado qua io dove sei andato ciao con la 310 e budva a monte scuro io utilizzo la tecnica la tecnica del dell'angolo retto a destra quindi vado sempre a destra in alto di 45 gradi lì vabbè è andata play again sono due partite due win su due signori eh per ricordare un attimino chi sono i fenomeni re di questo video ok questo gioca di più eh questo c'è il banner che c'è gioca di più ma che stai a dire? ci stanno pure i bannerini si vedi che io c'ho la stellina succhiatori di cazzi maledetti oh no viena 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 sì c'è dito viena viena c'è scritto? che non so aspetta non fida del zwechat mo faccio 5000 punti del zwechat attenzione pareggio mamma mia ma dove cazzo stiamo a palermo ma cos'è? guarda eh ti dico solo per la lingua sembra di no eh dici fernando gas dai perché non ci sta un punto com un punto sud brasil 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 si si no no si vede si vede che brasil brasil dove però do lo metto non lo so però voglio andare più giù un po' più giù? qui no può andare bene vedi easy guarda quanti danni ho ops quindi cazzo stiamo eh questo se no sanno di smembro ben tornato ale tia grazie per i sub patrick peppe no non fate così i miei fratelli sicuri c'è marzo ma tu già l'hai messa eh sì questa conosco la macchina la macchina eh sì ah e questa è cura sao bravo ah l'hai vista che bravo bravo il cazzo vabbè sì ma sei imbarazzante you you are disgusting ah sì ma deve essere questa è corea questa è corea provala io vado qua però giù ce lo sto andando sto andando a singapore solo per i cordoli eh vedi buono ragazzi ma sono tutti fortissimi su sto gioco ma che è ah ce l'abbiamo tutto a destra subito ti sto leggendo infatti service fire is shell clinic smartphone oh c'è una bandiera eh c'è una bandiera del messico se non sbaglio del messico mi sembra del messicano la bandiera no bro ma ti giuro proprio non è possibile dai ma perché non ci mettono mezzo perché non ce l'hanno manco ah indonesia 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 ehm sai come mettere ancora c'hanno la targa sui motorini davanti la targa sui motorini davanti yes ma insomma sei un cialone perché ci siamo divisi eh ma è da un'altra parte no è indonesia quella è che se mi chiede è grosso allora bro eh potremmo essere danimarca o svezia tipo ok vogliamo coprirla in due ok vado io vado in danimarca fidate easy frate questo no è orsense è qui è orsense bravo marzo ciuccia un po' di punti a christian feed sono fighe questi cazzo di rank quando metteranno il rank sarà ancora più strong ok danno uno e mezzo gli dovevo far male marzo però eh eh I guess Singapore questo vero pure secondo me perché una volta c'avevo ah no aspetta però targa gialla potrebbe essere Olanda colombian cross no 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 colombia 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 c'è scritto medellin sì ma vai medellin allora dov'è medellin qua è medellin fidate e vai gli fa mamma mia vedi chi c'è sta qui accanto a medellin eccolo il fenomeno l'imparazzante l'insensato gli si manda subito l'emoticon a sto coglione gli mando pianto bambù te snack tencin questo è cirillico non è cirillico marzo eh sì è cirillico però c'è una bandiera c'è una bandiera tutta rossa e nera ah nord macedonia nord macedonia ah è vero è vero e dov'è vado io vado scopie e qua qui qui vado in bitola vado in bitola la cucina è pesante lì eh attaccata attenzione succhiato le dicioni valpar slifer drago dei cieli easy ragazzi ma guarda che il peto non è il rumore il problema del peto si è se è caldo se il peto è caldo è da preoccuparsi oh cociabamba cociabamba dimmi dove andà marzo cociabamba no te lo prendo ti prendo proprio la via ma che stai a dire no marzo no l'abbiamo oh che no sto dentro la via sto il maestro è sexy che hit levati dal cazzo porco dio c'hai altro da fare che è l'1.30 ah oh brados latina questa repubblica esatto berno qui si vede un po' questa è una piccola lezione di stile dopo 3 secondi vi ho detto che era lezione di stile fanculo guarda dove sta lo pinga la stazio brutta troia è riuscita non prende troppo danno ah ma questa te la prendo senza manco muove lol ah in realtà in realtà in realtà in realtà potrebbe essere un piccolo problema vai Australia no l'ho messa messa zambia non è lo zambia poi ho paura che sia kip town ok meno male ha perso non ha ancora perso è fortunata che è hit oggi oh questa potrebbe essere Italia si eeeh no alternativire dressing oddio la mano ti invita alla calma no so la tona di figure mano che ti invita alla calma del vecchio l'eremita mio padre madonna marzo eh bro eh spachetto stava tutta ah si l'ho presa e invece no ok tecnicamente è qui per la flora che ci sta questo è un pinus salvaistra quindi tecnicamente dovremmo stare in zona India fuori però dovremmo stare forse tipo tra il Nepal e il Bangladesh oh no il maestro il Nepal e il Bangladesh c'è la Cambogia precisamente c'è il Kronkampong Chanang che dovrebbe essere uno dei posti dove questa pianta nasce e cresce anche perché occhi al sud America oh buono sopravvive eh soh Katara al Katara e questo è Katara dai sì questo deve essere Katara Katara Art Center guarda che macchinone è probabile che lo sia sì vai Dubai tu è il dubbio e tu vai a Dubai che è stata ma vedi ha perso oddio sono tutti dei perdenti punto at Marzo Austria 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 thanks abbiamo preso bravo Marzo bravo bravo Olanda sarebbe da trovare almeno ci sta un'indicazione in fondo in fondo se è Olanda però c'hanno la cosa arancione no? c'hanno la targa gialla l'ho Havens Ternhausen il numero è la N254 adesso la trovi buona fortuna è qui può dare andare meglio è lo più vicino eri eh raga io sono il il pistil del maestro il maestro dello stamen praticamente no che cazzo è roba di Grecia ste cose così eh sì il cocos è la lungheria molto bravo il cocos è sul cazzo del chiellini ma che è sta borto porco dio no questi stanno a tumora che gli sta mettono potrebbe essere marzo albania albania o albania o monte dov'è? albania albania buono però non molto in realtà vabbè ma se loro mettono giusto è difficile probabilmente è scandinavia già ma è quindi una di quelle tre sopra non ho niente per potertelo dire al momento boh io vado in svesta così sto in mezzo a tutto ce fanno male ce fanno male marzo ce fanno malissimo fanno molto male no ci guacciotta questi ne sanno la vedo grigia rolli turchia che è molto grossa no già che mi dici così marzo hai della paura la sento un po' si perché la turchia è grossa in culo senti io vado vicino ancara tu copri un po' magari ste zone così eh ambita ammessa finisce qui così deluso da non saltare nemmeno per un domandina vengono presi messi a pecore sfondati nel culo sento la sua lucida cappella che mi sfonda lo sfintero a di ma a a a Grazie a tutti